Mamme, amore e fornelli, un'iniziativa che ha consentito di dare ampio spazio al sociale, mettendo alla prova soprattutto le donne con gli aspetti più affascinanti e interessanti della cucina. Peraltro dolce metafora della vita di tutti i giorni, anche sotto l'aspetto professionale ed impreditoriale, che poi è quello che è stato trattato. Cento quelle coinvolte, le signore baresi si sono iscritte immergentosi in un percorso durato 5 mesi, 20 ore di teoria e 40 di pratica, durante il quale hanno acquisito competenze tecniche. Al Redentore di Bari le premiazioni. L'evento è stato patrocinato anche dal comune del capoluogo pugliese. Mi lancio molto positivo, è stata una bella esperienza, una bella esperienza con questa tanta mamme, in cui hanno acquisito tutte le tecniche della cucina, dalla BC fino alla pasticerie avanzata. Quindi per me è stato un grande orgoglio e una grande soddisfazione. Ho collaborato più che volentieri, è stata un'emozione, è stata un'esperienza estremamente piacevole, da cui esco sicuramente arricchita. Abbiamo esercitato uno spirito di sorellanza che ci ha portato al di là delle nostre stesse aspettative, è stato veramente piacevole. Grazie. Grazie. Grazie.